Oggi, martedì 28 marzo, la truppa Rosso-Blu tornerà a lavoro per iniziare gli allenamenti settimanali che porteranno poi a Chievo-Crotone e lo faranno sul campo di steccato di Cutro. Ripresa degli allenamenti che vedrà il ritorno col gruppo di Aleksandre Tonev, il quale è stato ancora una volta protagonista nella sua nazionale, la Bulgaria. Il centrocampista offensivo ha infatti disputato l'intera gara rendendosi protagonista di una buona prestazione nella quale la Bulgaria ha superato per due reti a zero l'Olanda, dell'esonerato Blint. È stata la venticinquesima presenza di Tonev con la maglia della sua nazionale, con la quale riesce sempre a fornire buone prestazioni, a differenza di quanto abbia fatto quest'anno con il suo club di appartenenza. Un altro calciatore Rosso-Blu impegnato con la nazionale è Kazim Sulic, che con la Bosnia Ander 21 affronterà nella giornata odierna il Lichten in una gara valida per le qualificazioni agli europei di categoria. In casa Cortone, invece, si comincia a programmare il futuro, anche se ci sono nove partite da disputare col massimo impegno per tentare il miracolo. Sorridente e disteso, un mister Salerno a termine della vittoriosa gara della sua polisportiva isola ai danni del Gallico Catona. Una rete di Foderaro, ad un quarto d'ora dal termine, ha permesso ai suoi ragazzi di vincere la gara e di portarsi a quattro lunghezze dalla cittanovese. Dopo le parole del mister, quelli di Marco Foderaro, perno del centrocampo dei giallorossi. Siamo a mezzo traguardo, dobbiamo essere bravi oggi e la prossima settimana a prepararci bene per la partita di Paola, perché poi c'è la sosta e quindi dobbiamo chiudere almeno la distanza di quattro punti. Poi se arriva qualche sorpresa, magari noi vinciamo e da Reggio Mediterraneo e da Città Nuova può arrivare un buon risultato e può darsi che possiamo chiudere già la promozione. Però aspettiamo la settimana, sono contento per come ci siamo comportati. Avevo paura che la partita di ieri poteva un po' trasmetterci nervosismo come è successo in alcuni momenti, perché poi il Catona ha fatto un buon primo tempo, ha cercato di fare pure qualche situazione pericolosa e quindi sono felice perché è giusto che poi alla fine meritiamo, siamo dal primo giorno, dal 30 aprile che stiamo meritando sto primato e spero di poterlo portare fino alla fine. Comunque nel primo tempo diciamo che siete stati un po' influenzati dal risultato di ieri. Eh certo, si è influenzati perché sapendo che tu potevi andare a quattro punti se vincevi in casa. Risultato poi, giocatori esperti come i nostri che hanno quella voglia di vincere perché la trasmissione tra di loro possono essere l'ansia di fare gol, l'ansia di... quello è un po' ci ha fregati. Il secondo tempo siamo entrati con più tranquillità e abbiamo giocato di più, si è cercato più gioco perché questa è una squadra che deve giocare, non può permettersi il lusso di buttare la palla così perché abbiamo difficoltà. Poi quando è entrato Piemontese, Dimich e Scuteri hanno cambiato un po' la svolta della partita. No vabbè, avevo già risposto prima, questa è stata una squadra costruita già per la Serie D. con la speranza che ci potessero ripescare. Però già se arriviamo al traguardo con questo obiettivo, alla fine penso che una squadra che va ritoccata con due o tre elementi può stare tranquillamente in alto per lottare a un buon campionato. Da questo punto di vista, meno si cambia, è ovvio che devi avere giocatori che devono stare bene, la nostra squadra è una fascia un po' alta come età, però è tutta gente che fisicamente sta bene, quindi difficilmente andiamo a toccare un gruppo già formato, con la speranza che la società possa confermarli tutti. Un'altra grande prestazione è anche perché oggi c'era da supplire in qualche modo all'assenza forzata di tricarico. Alla prossima bisogna supplire alla tua assenza perché hai buscato una munizione che purtroppo è pesante. Sì, è pesante perché non mi consente di giocare lì a Paola, però ci può stare, io l'arbitro lo stress dall'inizio è una fine, purtroppo la media cartellini dice questo. Il tuo fratello vi siete cercati spesso in questa partita, più del dovuto, anche se l'allenatore ha detto in conferenza stampa che forse non vi siete trovati. No, una volta per una cosa, una volta per un'altra purtroppo non ci siamo trovati, però no, ci cerchiamo perché comunque siamo vicini di reparto, io non faccio differenza uno o l'altro, mentre resta solo vincere le partite. Fatta no, finalmente siamo primi a tutti gli effetti, sulla carta e sul campo. Sì, perché si faceva riferimento a quei due punti a tavoli. Finalmente siamo primi in tutto, quindi speriamo di esserlo fino alla fine. Grazie a tutti.